Musica Ciao a tutti ragazzi io sono Merdocrate e oggi siamo qui nel sesto episodio del mio Let's Flame Odato Yes Peaches siamo tornati Non posso smettere di giocare questo pacchetto ragazzi, non posso veramente smettere Ho registrato tre episodi in fila, questo è il terzo di fila che registro E... a dire la verità è il secondo però, cioè è il terzo o secondo? Silenzio Dall'ultimo episodio ho spianato un po' quest'area e qui voglio cominciare a lavorare con una nuova mod Che, indovinate un po' qual è? I più intelligenti di voi verranno indovinato ma chissà come mai è la botania Yes Peach, comincieremo con la botania in questo episodio perché è una mod veramente fantastica E early game ci aiuterà tantissimo Ho deciso di mettere la nostra base principale per botania su quell'isoletta lì Isoletta insomma, su quella collinetta lì E adesso prenderemo un po' di gravel Proprio giusto un poca Prenderemo il nostro chisel Ho sbagliato chest GGs Prenderemo il nostro chisel Boom E vedremo che chisel ci sono per la... non ci sono chisel per la gra... mi stai prendendo pure il culo Grave Grave il bricks, grave road Stone brick slab Facciamo un po' di stone brick slab Oh no, so io cosa useremo Useremo qualcosa della botania che si chiama trodden dirt Che è fantastica per i sentierini L'ho usata un po' di tempo fa E non mi ricordavo dell'esistenza di questa cosa Quindi ne facciamo... Cosa ho sbagliato? Sand dirt 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 dirt... course dirt Quindi mi stai vedendo la dirt... ok Interessante Quindi... boom 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 Profetta E poi facciamo così Ok... e così E facciamo la trodden dirt 32 Penso che bastino E con questa 32 trodden dirt possiamo creare un sentierino Tipo... che va... non lo so così Wow 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 Eh qui ho pulito il lago di lava Quindi... dovremmo stare un po' attenti a scavare E poi farò delle scalette In ogni modo faremo un sentierino così E metteremo la nostra trodden dirt Che vedete che è un po' ribassata Quindi dà l'idea del sentierino Perché... non lo so è veramente fantastica Siamo una cosa qui così Qui così 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Boom 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 Ok mi piace mi piace Ok ragazzi l'ho migliorato un po' la stradina Ho utilizzato tre diversi tipi di blocchi Che sono la coble dirt, la dirt cisellata La trodden dirt e la gravel E penso che l'idea sia veramente buona Qui ho dimenticato di fare la cima Ma mettiamo subito tipo un po' di blocchi così a caso E così Perfetto E così penso che la stradina possa sembrarsi Molto bene Allora eccoci qua ho creato la nostra fonte di acqua infinita Perché è più o meno d'obbligo averne una E ho portato delle crafting tablets Quindi mettiamole tipo qui e qui sopra Boom E poi possiamo creare il nostro petal apothecary Quindi così 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 se non sbaglio E un petalo a caso Quindi vediamo lime perché non diamo di più Petal apothecary Lo mettiamo qui così Nice 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 Very nice Poi prendiamo Ovviamente se non state capendo che cosa sto facendo Come funziona questa mod Potete semplicemente guardare il mio mod spotlight sulla botania Che è ancora da finire però Una parte c'è almeno di quello Fino a prima o poi li finirò ragazzi Ve lo prometto Allora prendiamo un libro Prendiamo un sapling E creiamo il nostro lexica botania Boom Che ha una texture un po' stramba Però penso che sia solo la faithful Esatto è solo la faithful E author science abbiamo preso un achievement Ok gg's E prendiamo Quattro petali Boom Un due tre quattro Non che mi serva il lexica botania Però È sempre bello averlo Ne voglio fare due più pesi Perché why not E boom No ne facciamo una sola No ne facciamo due E Andremo a vedere un metodo Per automatizzarla Penso Voglio usare un metodo Un po' la dire wolf 20 E se avete seguito il suo let's play Sapete di cosa sto parlando Quindi mettiamo uno due E poi prendiamo del legno e della smoothstone E li mettiamo Qui in fondo Qui intorno Quindi boom 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 Perfetto Perfetto. Allora, un metodo per automatizzare queste signorine è un metodo molto efficace, tra il resto, che è quello che voglio provare a fare, perché non l'ho mai provato, probabilmente farò anche un mondo di test e lo testerò un poco, è con lo Steve's Factory Manager. Allora, questa è una mod fantastica, gli daremo un'occhiata in questo episodio, ma fidatevi che c'è molto di più da sapere di quello che io vi farò vedere, perché io sono un pretty macho, un nabbo con questa mod, ci ho giocato pochissimo, però vi assicuro che ha un potenziale assurdo, penso che con questa mod si possa automatizzare praticamente ogni cosa esistente su Minecraft, e comprese le mod, è più o meno universale. E poi mi serviranno degli inventory cables, quindi vetro, che abbiamo, ma devo cuocerne di più. Cuociamo più vetro. La mia stone è finita? Sono cuocendo più stone perché so che mi servirà con la bottegna, yes. E vetro, ferro e oro, quindi non dovrebbe essere un problema. Boom. E se prendiamo un po' di ferro nell'inventario, dovremmo poterlo craftare. Inventare i cable. Boom. E poi mi serviranno delle block gate, se non sbaglio. Vediamo se lo trovo. Block gate. Un set cover cluster. Block gate. Un piccone, inventory cable, dispenser. Perfetto. Allora, craftiamo il dispenser, che se non sbaglio, non so come si craftano. Penso siano quelli con l'arco. Uh. Penso siano quelli con l'arco. Quindi non penso di poterli craftare perché non ho stringhe. Questo potrebbe essere un problema. Questo è un dropper. Block gate. L'ho persa. Block gate. Eccola qui, l'avevo trovata. Eccola. Dispenser. Eh, serve l'arco. Quindi, a meno che non abbiamo archi da scheletri a caso, so dove possiamo procurarci delle stringhe. Infatti, qui al nostro campo base abbiamo ancora la nostra scalinata, che va alla nostra prima miniera. E se non sbaglio, qui sotto, da qualche parte, avevo trovato una ravina. Non sono esattamente sicuro del dove, però sono sicuro di averla trovata. Ah, trovata. Quindi è meglio tornare subito nella nostra forma giusta, perché sennò questi creeper ci fanno il bulo. E ecco dove possiamo trovare delle stringhe. Il problema è che ce ne servono tipo 10 miliardi, perché devo craftare 8 archi, quindi mi servono 24 stringhe in totale. Oh, well, mi sa che mi attende un po' di stringhe farming. Se trovassi uno spawner di ragni sarebbe ottimale la cosa, perché per adesso siamo a 5 stringhe, penso. No, 4. Quindi penso che me ne serviranno un po' di più. Quindi sì. Back in a moment. Ah, 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 questo era quello che cercavo. Oh, GG. Corde per tutti quanti. Ed ecco amici miei cosa succede quando un pezzo di gravel che cade, cade su una ragnatela. Ve lo siete mai domandato o no, neanche io? Però, lol, è abbastanza buggato. In ogni modo abbiamo 35 corde, quindi possiamo tornare a Tom. E se riesco a trovare... Beh, penso che l'uscita più veloce da questo posto è questa. Super riuscita. E ci rivediamo a casa, cartiamo questi archi e entriamo nella Steve's Factory. Dream Manager. Vi dico già subito che il programma, tra virgolette, che userò per l'automatizzazione che andrò a far vedere non è mio. E' appunto, come ho già detto prima nell'episodio di Die Wolf 20. Perché adoro solitamente la maniera facile e allo stesso modo veloce. Nel modo in cui ha automatizzato quelle cose. Perché è tipo perfetta, però super facile. Quindi, yes, vediamo di arrivare in superficie e ci sentiamo. And voila! We are back. Oh ragazzi, questi dispenser sono veramente una pena da craftare. E otto. GG. E poi otto... Cosa mi sa qui? Otto picconi di ferro, se non sbaglio. Quindi... Questo è già più facile. Boom. Ne abbiamo sei. Sette e otto. Sbammete. E poi possiamo combinare questi. Ne ho fatti un po' di più, come potete leggermente notare. Con questi e uno... Oh, che palle. Questi oggetti che non staccano mi distruggono la vita. Quattro. E otto. GG. Andiamo ad automatizzare la nostra Pure Daisy. Allora, mi servirà anche una chest. Una chest. Quindi prendiamo una chest. E mi servirà una sola Pure Daisy. Quindi per adesso rimuoverò la seconda. E... Sì. Divid it. Lascerò solo una. Super modo easy per rimuovere una Pure Daisy. Prendere un pezzo di cobblestone. Fare così. E poi fare così. Pam. Rimossa. GG. E... Penso che abbiano anche cambiato la texture della... Della... Non mi viene il nome... Del living wood. Perché mi sembra diverso dall'ultima volta, però... Vabbè. Allora, dovevo farci un po' di pulizioni alimentari, ma... Amen. Allora, piazziamo il nostro... Machine inventory manager qui. Piazziamo la nostra chest. Qui. Per esempio. Dopodiché... Mi serviranno 8 block gate. Fatemi ricordare... Ok ragazzi... Oh, scusatemi. Ok ragazzi, ho deciso che comincerò. Cioè, non userò la cosa di Dark World 20. Perché non so. Non so perché, ma voglio provare a utilizzare un po' una cosa a metà mia. E metà di uno youtuber che ho trovato... Non dico il momento, però poco tempo fa. Che si chiama... A code builder, se vogliamo dirla all'italiana. Ad ogni modo, ci serviranno 8 block gates che andranno in su. Perfect. E quindi qui dovremmo trovare tutte queste cose belle, carine. Allora, Steel Factory Manager è una cosa per deprogrammazione. Quindi possiamo spostare le cose qui, possiamo tirare righe. È un po' complicata da spiegare. Farò un mod spotlight sulla Steel Factory Manager non appena ne avrò tempo. Ma non è una di quelle mod da cui do la priorità per fare un mod spotlight in su Mac. E poi dovremmo scavare di sotto. Proprio in questa maniera con la pala. Attenzione. E scavare qui sotto tutto quanto. Perché le block gates non contano come cavo. E quindi dobbiamo connetterle con un cavo all'inventory manager. Quindi vediamo, il nostro inventory manager è qui. Quindi da qui faremo ripassare un cavo giù di qua. Lo faremo arrivare tutto fin qua. Fin qua. E fin qua. Nice, nice. Very nice. Ok ragazzi, ho fatto qui una piccola cosuspia. E l'ho fatta solo per il legno. Per adesso poi provvederò off camera a fare un'altra pure daisy. Penso che creerò un'altra pure daisy per esempio qui. Per la Living Stone insomma. Perché non so. Sento di doverne fare un'altra. All'altro in modo vedete che se noi mettiamo del legno qui. E li ve lo piazza qui. Perché? Perché non lo piazzi qui? È stramba sta cosa ragazzi. Ok. Non sta funzionando eccessivamente bene. E cercherò di capire perché. Ok ragazzi. Non so per quale strambo motivo. E... Ok ragazzi. Penso di essere riuscito a farlo funzionare. Almeno spero. Infatti vedete che se noi mettiamo questi October Wood qui dentro. E non so perché li importa tutti. E ad ogni modo li piazza. È già una buona cosa. E quando saranno del Living Wood li toglierà. Penso che sia il problema. Sia. E... Qui. Penso che il problema sia qui in qualche modo. Podiamo fare così. Vabbè troverò il problema prima o poi. E no. Questo deve andare così. E vabbè ad ogni modo vediamo se tra un minuto quando diventeranno Living Wood verranno importati del sistema. Oh oh oh. Sta succedendo. Guardate guardate. Ce ne sono già due. E non so perché gli altri non stanno diventando Living Wood. È una cosa un po' strana. Ups. Non so perché due sono diventati Living Wood e gli altri no. Ecco ecco. Avete visto? Boom 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 boom. Li ha tolti tutti. Ora l'unico problema che devo ancora capire. È perché cerca di piazzarli tutti insieme. E non solo 8. Quindi cercherò di capire questo problems. E... Proviamo a fare... Così. Fritch Variable bla bla bla. Proviamo a fare così. Potrebbe funzionare. No. Vedete. Li prende tutti e li piazza tutti. Non so che problema abbia. E qui non l'ha neanche piazzato. Vuol dire. Non so che problema abbia. Cercherò di capirlo. E se riuscirò a capirlo. Ve lo dirò. Ok ragazzi. Ho portato un bel po' di modifiche al programma. Alla fine ho utilizzato quello di Living Wood 20. E ho portato un paio di modifiche mie. E funziona. Adesso vi spiegherò come funziona. E andrò passo passo. Insomma. Allora. Apriamo. Questo è semplicemente un trigger. Che dice. Ogni secondo. Fai tutta questa serie di operazioni. Poi noterete che qui abbiamo due variabili. Che sono la bianca. Che contiene tutti i nostri. Le nostre block gate. E quell'arancio. Che è semplicemente vuota. Questo comando qui. Dice semplicemente. Di prendere tutti gli oggetti. Che sono nella variabile bianca. Quindi tutte le otto. Avete visto? Appena. Appena fatto la cosa. Dirà al coso. Di prendere tutti gli oggetti. Che sono nella variabile bianca. Quindi tutte le otto le block gate. E una per una. Assegnarle alla variabile arancio. Quindi per esempio. Prendere tutte. Questa cosa qua. E dirgli che arancio. Per un secondo. Fare quello che deve fare. Prendere su questa. Dirgli che arancio. E farlo per un secondo. Eccetera. E dirà alla variabile arancio. Insomma di essere arancio. Poi cercherà. Da ogni oggetto. Della variabile arancio. Vedete. Di importare. Living wood. O living stone. Dipende. Insomma. Se abbiamo fatto dentro legno. O stone. E lo vedete. Lo cercherà di importare. Ogni secondo. E. Se riuscirà a importarlo. Lo metterà nella chest. Vedete che ho fatto un po' di prove. Con del living wood. Ho utilizzato solo legno. Per ora. Poi utilizzerò anche la stone. E lo metterà. Come vedete. Nella chest. Poi. Cos'è questa cosa? Poi. Andremo a vedere una condizione. E cercheremo di vedere. Se. Una di queste block gate. Può rompere. Stone. Cobblestone. Oakwood. Living rock. O living wood. Praticamente. Andremo a dire. Se una di queste block gate. Ha. Sopra di. Sopra di lei. Il legno. Stone. Cobblestone. E la cobblestone. È un trick abbastanza. Perché. Queste block gate. Controllano gli oggetti. Che potrebbero rompere. Mettiamo anche della stone. Così. Vediamo che. Funzione anche per la stone. Loro. In questo momento. Qui sopra. Non vedono stone. Ma vedono cobblestone. Perché loro dicono. Se io rompo. Mi viene cobblestone. E quindi. Qui sopra. C'è cobblestone. Anche se in realtà. Questo è stone. Quindi. Questo è il trucco. Bisogna mettere anche la cobblestone. Se no. Non funzionerà. E poi. Living rock. E living wood. Solo per evitare dei bug. E se non ci sono. Insomma. Se non c'è nessun oggetto. Prendi. Dalla chest. Living rock. Living wood. Però. Uno solo. Alla volta. Perché se no. Proverà a piastarli tutti insieme. Nello stesso blocco. Tipo. L'idroperato di preterra. Come avete visto. Nel precedente segmento. E. Output. Outputali. Nel. Nelle block gate. Come nella variabile arancio. Nella tua block gate. Attiva. E le slab qui sopra. Servono. Perché se no. Per qualche strano motivo. Le block gate. Piazzano gli oggetti. Due blocchi sopra. Quindi. Boh. Vabbè. E quindi. Siccome questo sistema. Funziona. Rock. Non mi servirà farne le due. Insomma. Ne basterà farne uno. E questo ci farà tutta la living rock. E living wood. Del quale. Avremo mai. Bisogno. In tutta la nostra esistenza. E ho messo in peaceful. Perché sono dovuto andare a fk. E non avevo voglia di mettermi sulla cosa. Quindi ho messo in peaceful. Quindi torniamo normal. E andiamo a slippare. Anzi. Siccome non ho voglia di andare in casa. Slipping bag. Perfetto. Ora che abbiamo la nostra. Piccola automatizzazione. Qui possiamo utilizzare le nostre. Living wood e stone. Per creare diverse cose. Allora. La prima cosa che voglio creare. E prendere della living wood. E crearci una wand of the forest. Quindi. Sbam. Sbam. Creiamo due twig. Tre twig. Quindi. Serviranno due living wood in più. Sbam. Tre living wood twig. In questo modo. E poi mi serviranno dei petali. Io direi che andiamo con il. Blu e il lime. Perché mi ispirano il blu e il lime. Non chiedetemi perché. Ma sono due colori che mi piacciono messi insieme. Quindi facciamo blu. E lime. Lo voglio al contrario. Così. No. Mi piace di più così. Blu e lime. E abbiamo il nostro. Wind of the forest. Beaches. Motherfuckers. Yeah. Yeah. Ungo tre. E. Bind mod. Function mod. Bind mod. Function mod. Poi. Ci servirà una manapool. Per adesso ne creiamo una sola. Creiamo una manapool. Sbam. E poi la piazziamo per esempio qui. E come generazione di mana creiamo subito un end of flame. Quindi generating flora. End of flame. E brown. Mana però. Red mana. Quindi dobbiamo andare per forza con i daybloom. Perfetto. E. Chi sono? Se non sbaglio blu. Giallo. Giallo. Arancio. Quindi. Blu. Sion. Light blue. Light blue. Giallo. Giallo. Arancio. Light blue. Giallo. Giallo. Arancio. Ne facciamo due. Why not. E quindi ci serviranno due semi. Ci servirà il nostro secchio. Poi farò pulizia nel alimentario però. Giallo. Arancio. E. Semi. Boom boom. Daybreak arrival. Archivement. Bello. Arancio. Sbam. Poi ne farò di più. Però poi intanto due possono bastare. Li mettiamo in questa posizione qui. Quindi qui c'è nello spreader. Quindi. Qui. E qui. Così. La nostra wand of the forest. Dove indicarci che. Sono tutti fresci. Tutti a posto. Guardate. Stanno già generando mana. E poi ci servirà un mana spreader. Quindi andrò a prendere un po' di oro. E mi pulirò l'inventario. Con l'occasione. Ok. Quindi possiamo prendere il nostro living woods. Metterlo così. Mettere un pezzo d'oro. Che mi sono portato con un po' di materiali. Da craftaggio. Prendere un petalo. Boom. Mana spreader. Lo piazzeremo qui così. E tu dovresti cominciare a sputare mana. Yes. Nice. Ok. Perfetto. Quindi. Ora. Perché c'è. Un po' di legno per terra. Penso che. Se è troppo veloce. Sarebbe veramente meglio. Crearne uno opposta per il legno. Uno per la stone. Quindi per intanto lo terrò così. Ma poi appena ne avrò l'occasione. Lo cambierò. Insomma ne creerò una più nuova. Quindi questa è una cosa. Temporanea. Don't worry. Be happy. Perché abbiamo la steel cart. E. Ok. Magari. Prendiamoci. La tab. Della bottenia. Bottenia. Ok ragazzi. A questo punto dobbiamo praticamente aspettare. Che questa mana pool. Si riempia un poco. Per upgradeare. Un'altra mana pool. A una normale mana pool. Quindi. Mentre. Noi aspettiamo. Che questo mana spreader. Si decidi a sparare. Prendiamo un po' di mana. Da quei due misery mana blue. Anzi. Direi che. Intanto volo un po' per il mondo. A cercare altri fiori. Light blue. Gialli. E rossi. No e arancio. Per fare più dei bloom. E poi credo che andrò semplicemente a creare. Lo Steel's Factory Manager. Apposta per. Per la. La Living Rock. Quindi ne farò uno per il legno. E uno per la. La cosa lì là. La stone. Uh. E tra ragazzi abbiamo qui attaccato anche un meteorite. Della Play of Energy 6. Quindi. Ok ragazzi. Prima che fossi stato. Rudemente interrotto. Da un crash. Della scheda video. Vi stavo parlando. Della roba che avrei fatto a FK. Che ho fatto a FK. Un attimino. Vedete che qui ho creato un altro spreader. E ho upgradeato le due mana pool. Perché avevamo abbastanza mano. E ho fatto un po' più di dei bloom. Come ho antecipato. E ho creato il secondo sistema per la Livingstone. E ho shiftato questi dei barili. E funziona benissimo. Ragazzi. Veramente. Sono veramente contento di avere questa build. Sono contentissimo. E. Allora. Con questi dei bloom. Non andremo molto lontano. E quindi direi che è il momento di upgradeare. A un'altra fonte di. Pouats. E ora voglio andare per le Thermalillies. Oh. Oh oh oh. Sono expensive. Quindi. Direi che per intanto andremo con degli End of Flame. Ne creeremo uno. Se ho un brown mana petal. E un red mana petal. Se ne abbiamo un brown. E un red. Sbam e sbam. E uno a testa andrà upgradeato. A un mana petal. E poi mi servirà un light grey. Ce ne ho uno. GG. Cool. E quindi possiamo fare così. 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 E così. Opsi. Così. Ma. Ho dimenticato qualcosa. Sì. Ho dimenticato questo. Nice. Meltdown. Allora. Possiamo piazzarlo qui. E questo è praticamente un generatore di mana. Non di corrente. Che va a carburante. Quindi adesso prenderò un blocco di carbone. E glielo darò. Il problema è che non può prenderne di più insieme. Può prendere solo un oggetto alla volta. E quindi. Posso solo dargliene uno alla volta. Ecco. Insomma. Potrei creare un sistema automatizzato. O dargliene uno alla volta ogni volta che finisce. Però. Sinceramente non ho voglia. E adesso. Lots of mana. Boom. Super mana. Guardate quanto mana. GG. Vabbè. Insomma. Adesso abbiamo. Un end of flame. Pronto per rock and roll. E. Oh. Avete visto? E adesso? Non abbiamo più stone credo. Esatto. Devo facciare un po' più di living. Di stone. Vabbè. Lo farò più tardi. Ad ogni modo. Un'altra cosa che voglio fare in questo episodio. Proprio super fast. È un runic altar. No scherzo. No sì. È un runic altar. Questo è l'episodio dei no scherzo. Allora. Runic altar. Qui quasi quasi creerei un horn of the wild. Velocissimamente. Perché credo che si possa craftare in fretta. E pasture seeds sono semplicemente ok. Quindi mi serviranno delle forbici che posso craftare qui. Shares. Prendiamo un po' di grass. E possiamo trasformarla in pasture seeds. Boom. Nail it. E poi ci serve del living wood. E possiamo fare una cosa così. Se non sbaglio. No. Ah. Uno due. Ok. Trovo quasi però dai. Horn of the wild. Questo è tipo una cosa stra comoda. Perché vedete. Quando io voglio pulire della grass come questa. Fantastico. Adoro questa cosa. E gg. Abbiamo l'horn of the wild. E poi vorrei cominciare a creare delle bubbles. Ebbene sì ragazzi. Quindi questo non serve più. Bubbles. Cerchiamo di vedere almeno il globe trotter sash. Così possiamo toglierci questi stivaletti che li odio. Io sinceramente non mi piacciono le cose da tinker di questa l'armature. Non un globe trotter sash. Sojourner sash. Sojourner sash. Questo qui. Servono. Eh. Servono delle rune. Quindi ci servirà un runic altar. Quindi. Perché non craftare un runic altar? E ci servirà. Un mana diamond. Uff. Le cose cominciano a diventare expensive witches. Allora. Andiamo a prendere un mana diamond. Diamante. Shiny diamond. D'ognom modo questa collina non sarà il posto definitivo dove costruirò la mia base finale diciamo per la bottenia. Ma. Un trenetto di merda. Bensì questa qua è solo una cosa provvisoria. Poi quando progresseremo un bel po' nella bottenia. E avremo abbastanza materiali per fare quello che voglio fare. Chi sarà una cosa strafiga. Non vi anticipo nulla. E allora costruirò la nostra vera base. E verrà una cosa tipo fighissima. Allora possiamo mettere il nostro. Possiamo creare un altro spreader. E. Un. 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 Serviranno 6 mana steel in totale 7 mana steel Non so se abbiamo abbastanza mana Spero di sì 1, 2, 3 No ne abbiamo abbastanza per farne 2 Perfetto Io aspetterò un po' più mana Per crearmi tutto il mana steel E We'll be right back quando potremo craftare Il nostro coso qui Ci servire anche più mana Addirittura perché ci dovremmo Ok forse non siamo ancora pronti Adesso che ci penso per creare Uno di questi hash Penso che concluderò l'episodio qui E lasceremo questa cosa A fk usa Tutto il tempo del mondo E sì Faremo in modo che il nostro mana Si smani un bel ma Un bel po' Vediamo questo Sto ancora andando Sì yes Abbiamo un sacco di mana Flowing Forse possiamo crearne un altro Yes Nailed it E ok Quindi per questo episodio è tutto Io vi ringrazio per la visione Vi rimane il prossimo video che caricherò E ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti